Ancora un tragico incidente nella strada statale 106 Ionica che diventa sempre più strada della morte. Tre morti e un ferito grave, il bilancio dell'ennesimo incidente che si è verificato a Crotone lungo la strada statale 106. Tre le vittime, Domenico Battaglia, Antonio Carriago e Santro Marcianò. I tre erano originari di Reggio Calabria, appassionati di caccia sportiva e stavano tornando da una prova selettiva per il campionato di addestramento cani organizzata da Federcaccia. L'auto, un pick-up Ford Raptor di colore blu, stava viaggiando verso sud quando per cause che sono ancora all'avvaglio degli inquirenti è sbandata per poi finire fuori strada in modo autonomo in un tratto rettilineo della 106 che attraversa il quartiere di Poggio Pudano all'ingresso di Crotone. Nell'impatto violento con il muro, l'autista e il passeggero che si trovava accanto a lui sono deceduti sul colpo. Per estrarre i loro corpi si è reso necessario il ricorso alla gru dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone che hanno dovuto sollevare l'auto dal canale di Scolo per procedere al recupero dei due cadaveri. Antonio Carriago e la quarta persona, AB, si conoscono solo le iniziali, sono state immediatamente trasportate in codice rosso al pronto soccorso del San Giovanni di Dio di Crotone. Le loro condizioni sono apparse critiche agli occhi dei medici, i quali non hanno potuto far nulla per salvare la vita Carriago, che era titolare di un centro di addestramento per cani da caccia a Reggio Calabria. Il quarto passeggero invece è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione del presidio ospedaliero. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, i poliziotti della squadra volante e della stradale e gli agenti della polizia locale, che stanno conducendo le indagini sull'incidente sotto il coordinamento della procura di Crotone.